nel lago di Milano, trovato il cadavere. Quante storie misteriose si celano dietro le acque tranquille del fiume Lambro. Oggi, ci immergiamo in un enigma avvolto dal mistero. Chi è l'uomo il cui corpo è stato recuperato nelle vicinanze di via Rombona Milano? Un giro di notizie che iniziamo con una domanda fondamentale. Cosa si nasconde dietro questa tragica scoperta lungo le sponde dell'Ambro? Ma prima di iniziare non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare tutte le notifiche tramite la campanella. In questo istante, le squadre di soccorso di Milano sono attivamente impegnate in un intervento cruciale lungo via Rombon, nelle vicinanze dello specchio d'acqua del fiume Lambro. La missione è il recupero di un corpo, precisamente nelle acque dell'Ambro, situato in prossimità di via Rombon, nella periferia milanese. Le informazioni fornite da ansa.it indicano che si tratta del corpo di un uomo, smentendo così l'errata segnalazione iniziale che indicava una donna. Secondo le prime informazioni, il corpo è stato scoperto sul lato destro del fiume, in direzione della tangenziale est. Attualmente, l'identità della vittima è sconosciuta. La scena è stata presidiata dagli esperti del nucleo SAF e APS di via Benedetto Marcello, con la partecipazione attiva delle forze di polizia scientifica. Conformemente a quanto riportato da fanpage.it, il corpo ritrovato mostra segni evidenti di avanzato stato di decomposizione. Tuttavia, al momento, non è possibile determinare con certezza quanto tempo il cadavere abbia trascorso nelle acque fluviali. Quali pensieri vi suscita questa situazione? Credete che le indagini potranno fornire chiarezza sulla vicenda? Fateci sapere nei commenti qui sotto. La vostra opinione è importante per noi. Le prossime ore saranno cruciali per le indagini, che si concentreranno sul chiarire i dettagli legati alla causa del decesso. In questo contesto di notizia cruda e inquietante, è fondamentale rispettare il delicato processo investigativo in corso. Non dimenticate di lasciare una vostra reaction, quindi cliccate un like e condividete questo video con chi vi fa piacere. La nostra speranza è che, attraverso il lavoro attento delle autorità competenti, si possano ottenere risposte esaustive che portino alla luce i dettagli circostanziali di questo tragico evento. Da Amica Gossip per oggi è tutto. Grazie e alla prossima!